Una scelta precauzionale concordata con la regione Abruzzo e la ASL. Il sindaco di Lucoli, Walter Chiappini, a seguito dell'emergenza sanitaria venutasi a creare nel territorio comunale con un incremento di contagi, ha firmato un'ordinanza con cui è stata istituita una zona rossa nella frazione di Casa Maina, a decorrere dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte del primo di settembre. E' la prima zona rossa istituita dopo la fine del lockdown nella piena fase di emergenza Covid. Nel comune ci sono due focolai, uno nella frazione di Casa Maina, dove i positivi sono 10, di cui uno in ospedale, e l'altro nella frazione di Casa Vecchia, dove ce ne sono due, uno in ospedale e uno in isolamento domiciliare, con un primo tampone negativo. Poi ci sono altre 40 persone in quarantena, tra le misure previste dall'ordinanza del sindaco, il divieto di allontanamento dal territorio della frazione da parte di tutti gli individui presenti e il divieto di accesso. È comunque consentito il rientro a domicilio o nella residenza all'interno della frazione, per chi, al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza, si fosse trovato fuori dall'area stessa. È da dire che in questa frazione ci sono circa 120 residenti, ma in questo periodo, nel periodo di agosto, abbiamo raggiunto i numeri pari a 500, 600, 700 persone, perché è un paese abbastanza turistico. Sono sospese le attività degli uffici pubblici fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità e tutte le attività produttive e commerciali, ad esclusione dei negozi di genere alimentari di prima necessità. Lungi da me da essere il piccolo sindaco che vuole salire agli onori della cronaca nazionale, per l'amor di Dio. Qui c'è una concertazione con l'Alsa Avezzano-L'Aquila-Sulmona e con la regione Abruzzo, che in virtù di questa situazione che si è creata, forse c'è sicuramente bisogno di una restrizione. Il primo cittadino spiega di essere preoccupato, ma fiducioso, perché la situazione è sotto controllo. Mi piace pensare positivo, avrò un esito negativo di questi 146 tamponi. L'ordinanza che ho fatta per cinque giorni scadrà martedì, ma è un'ordinanza, continuo a ripetere, preventiva e di tutela della salute, ma continuo a sottolineare che la situazione è ben monitorata. Abbiamo pensato di monitorarla ancora di più sotto questo aspetto. Siamo stati dentro tre mesi, si può dire. Possibile non riusciamo a stare dentro cinque giorni? Nel frattempo, il bollettino dell'emergenza coronavirus parla di un aumento odierno di 20 unità di casi positivi. Su base settimanale siamo un più 121 in tutto Abruzzo. L'età dei nuovi pazienti covid è compresa fra 8 e 71 anni. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, 39 più 2 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale, di cui uno in terapia intensiva, mentre gli altri 343, numero invariato rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'ASL. Non ci sono per fortuna nuovi deceduti, il numero resta fermo a 472.